Dopo un mese e mezzo di stallo amministrativo, il presidente D'Alfonso non scherzi sulla pelle degli abruzzesi e responsabilmente rispetti ciò che prevede la Costituzione italiana. E quanto sostengono i consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo, che nel corso di una conferenza stampa hanno chiesto che si proceda alla determinazione delle votazioni regionali nel mese di ottobre. Per Febbo e Sospiri, il centrosinistra non deve commettere l'errore di bloccare per altri otto mesi l'attività di una regione che continua a registrare dati negativi in settori strategici. Lo dice la Costituzione italiana, il regolamento del Senato, una legge della regione Abruzzo, la 51 del 2004 e il regolamento del Consiglio regionale. Il presidente D'Alfonso, se vuole continuare a governare la regione Abruzzo, deve rinunciare a fare il senatore perché non si possono servire due padroni. Se invece ritiene di voler mantenere la carica a cui è assunto ultimamente, ha una tempistica molto chiara che di fatto farà terminare questa legislatura regionale, che per noi è già terminata da qualche mese, in verità, i primi giorni di giugno per votare alla prima data utile il 14 ottobre. Naturalmente in questi mesi né la Giunta è nella sua piena operatività né il Consiglio regionale. Mi sembra indecoroso tenere la regione Abruzzo con tutti i problemi che ha sette, otto mesi completamente ferma solo a pagare stipendi, non potendo operare per risolvere nessuno dei problemi di questa regione. Lui ha optato per fare il senatore, facesse il senatore e desse la possibilità al popolo abruzzese di scegliere un nuovo governo regionale che avrà il suo programma di governo che dovrà prima sistemare i danni ricevuti e poi rilanciare finalmente economia e dignità di questa regione.